Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui a farvi vedere il sunto, un paio di funzioni spettacolari. Questo è il mio sunto 9, vissutissimo, questo è un sunto 9 ovviamente nuovo, questo è, mettiamo innanzitutto a non disturbare, ok, andiamo a vedere oggi come impostare le ripetute. Allora, io vado in corsa, ok, nel momento che vado alla corsa, questo è l'esempio, quello che farò dalle opzioni sarà quello di impostare gli intervalli, ok, intervalli, posso mettere on, decido il numero di intervallo, tipo 10 intervalli di un minuto, come devo per un minuto? Possiamo decidere se avere la durata o la distanza, ok, possiamo far vedere il recupero, quanto metterlo, una volta impostato, andremo indietro e faremo avviare. Vi faccio vedere come funziona, intanto vi sto dando una frenata cardina quando ce l'ho a mano, io scorrendo nelle pagine, eliminiamo, troverò le ripetute, farò avvia e avvia tutto, recupero e avvia. Questa funzione è molto utile per le persone che comunque vogliono cercare di allenarsi con determinati sistemi, qualcosa che io vi invito a provare, qualcosa di estremamente rapido, e niente, ecco la mia impostata di ripetute e da oggi è tutto. Ciao ragazzi! Grazie! Grazie!